Sul pianeta Digitus, Tork va a visitare la sua amica Mork che ha appena iniziato a costruire la propria Digit casa. Oh no! Sul nostro pianeta Humanitus usiamo Standark per i nostri edifici. Lo Standark è lo strumento più usato nella comunità di Humanitus. Qualsiasi risorsa tu abbia, è usabile, riusabile, sicuro e sostenibile. Aspetta, ora ti mostro come funziona. Come puoi vedere, con Standark puoi condividere risorse e tecniche di costruzione. Si chiama interoperabilità. Per i tentacoli di Malork! Inoltre, puoi utilizzarlo per eseguire molti lavori di riparazione e manutenzione, anche se non ti sei costruito la casa da solo. Producendo e usando Standark, condividiamo le stesse risorse e le conoscenze a loro associate con tutti gli Humanitusiani, ovunque si trovino. Quindi, pronta, partenza e inizia a usare Standark! Sembra Gorkaviglioso! Sembra Gorkaviglioso! Sembra Gorkaviglioso! Grazie a tutti.